Paolo Mieli, come mai c'è ogni anno questa smania di inquinare il 25 aprile la festa della liberazione anche con delle proposte francamente molto no provocatorie tipo quella di La Russa ha detto invece di festeggiare la liberazione festeggiamo, ricordiamo i morti del virus del Covid-19 insomma che non... Si sono strizzate l'occhio in quel caso a ex fascisti o ex neofascisti, li chiami come vuole ma ci sono molti motivi ma il principale è questo nel dopoguerra, dopo la rottura fra comunisti e democristiani nel 1947 i comunisti si impossessarono di quella festa o cercarono di impossessarsene per dire vedete la democrazia cristiana non è che ci ha cacciato per la guerra ma ha rotto l'unità antifascista in qualche modo adombrando che se uno rompe l'unità antifascista vuol dire che sta riproponendo il fascismo e lì ci fu una divaricazione noti bene i cattolici hanno un'ampia schiera di cattolici progressisti ma una divaricazione fra l'Italia moderata e l'Italia comunista e degli alleati comunisti si diceva se ne sono impossessati loro di questa festa lasciamogliela e da allora sono passati 70 anni perché questa cosa cominciava ad accadere 5 anni dopo intorno al 1950 sono 70 anni in cui ogni volta la colpa è di coloro che vanno ad inquinare gli inquinatori ma anche i manifestanti di sinistra a volte ci mettono nel loro ricordo una volta che Letizia Moratti fu eletta sindaco di Milano della destra andrò col padre che era un ex partigiano in Carazzella ma siccome lei era stata eletta con il vostro destra fu fischiato oppure l'indecente cosa che ogni volta gli ex partigiani della brigata ebraica vengono fischiati nel nome di cose che non c'entrano niente la lotta di liberazione della Palestina ecco quindi non ci sono colpe da una parte ma il vero motivo sta nella cosa che le ho detto del 1950 è abbastanza curioso e impensabile per esempio che al Bundestag in Germania siedano dei parlamentari che strizzano l'occhio al nazismo cioè è una cosa che non si verifica e getterebbe una vergogna assoluta sul Parlamento da noi invece sembra che ogni tanto questo si possa fare ma come mai loro hanno fatto i conti fino in fondo e ancora adesso diciamo hanno questa ferita aperta noi invece continuiamo a riproporre questo meccanismo diciamo di contrapposizione come se il fascismo fosse una cosa che abbiamo tra i piedi anche oggi perché questa cosa lei ha citato i due paesi che hanno perso la seconda guerra mondiale e sono paesi dove un grumo anche da noi un grumo è rimasto anche in Germania? sì sì ma non in Parlamento però non in Parlamento però in Germania il grumo è ancora maggiore nel senso che in Germania c'è un partito Alternative for Deutschland che è quasi un partito soprattutto nell'ex Germania orientale che però insomma è quasi un partito neonazista noi movimenti così abbiamo in gruppetti extra parlamentari però diciamo i due partiti di destra la Lega e Fratelli d'Italia non sono partiti che possono essere definiti neonazisti però qualche indulgenza talvolta c'è ed è probabilmente riferito a questa divisività della festa del 25 aprile della quale non si riesce a venire a capo ogni tanto c'è qualche leader della sinistra ricordo Violante Violante quando divenne presidente della Camera ci prova ma poi gli animi vengono ripresi da quella tensione e si torna da capo a 12 però diciamo anche se non si è riproposto il fascismo così come era ai tempi di Mussolini qualcuno ogni tanto va a pescare delle cose che sono state parte di quella ideologia oggi, l'abbiamo detto prima c'è questa corsa nuovamente all'uomo forte i pieni poteri e anche delle forme di razzismo un fascismo mascherato questa è una parte un'altra vuole che le dica una cosa con coraggio quando la televisione trasmette dei documentari su Mussolini gli ascolti si alzano c'è come la sensazione anche su Hitler per la verità ha peggiorato la situazione c'è come la sensazione che su questi due personaggi e i fenomeni che hanno avuto non si sia detta tutta la verità che ci sia una verità ufficiale ma poi qualcosa si possa salvare qualcosa si possa salvare guardi è una sensazione diffusa cioè oggi a rivalutare il comunismo glielo dico da analista certo non si ottiene grande consenso a rivalutare il fascismo sia pur in una parte separata della società si ottiene si ottiene un certo successo e anche si dà l'impressione di essere persone coraggiose che vanno controcorrente che dicono le cose scomode per il potere e questo è un altro rischio che si corre è un rischio che si corre e che però secondo me gli antifascisti un po' se ne sono resi conto nel senso che oggi le manifestazioni del 25 aprile sono molto meno retoriche di quanto fossero una volta oggi gli stessi partigiani o ex partigiani quando raccontano le loro vicende la loro storia non nascondono più alcuni particolari scabrosi insomma il non detto che ha raccontato Panza per esempio esatto oggi ne parlano apertamente ne parlano sia i libri sulla resistenza un libro di Marcello Flores sia loro stessi perché Gad Lerner con Laura Gnocchi è andato a pescare tutti praticamente i partigiani più che novantenni sopravvissuti e io ho guardato quel libro l'ho letto con grande interesse e la cosa impressionante è che tutti i partigiani che hanno avuto un momento di questi opachi nella storia delle resistenze ne parlano con coraggio cosa che prima non sarebbe accaduto ma no prima assolutamente se qualcuno ancora adesso se qualcuno ne parla c'è ci sono parti che ti dicono vergogna revisionista beh lei ha ricordato prima il caso di Giampaolo Panza che sicuramente non veniva non era uno che aveva una storia di destra che aveva un poesità che aveva un poesità